La Procura Distrettuale della Repubblica ha delegato alla Polizia di Stato l'esecuzione di una misura cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale nei confronti di sei persone in quanto gravemente indiziate con differenti profili di responsabilità dei reati di tentato omicidio, porto di arma comune da sparo, detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina e ricettazione. Si tratta di Salvatore Musumeci, Giovanni Balsamo, Giuseppe Micale, Rosario Micale, Sebastiana Musumeci e Concetta Jessica Rita Saitta. Il provvedimento restrittivo è stato emesso all'esito di indagini di tipo tradizionale coordinate dalla Procura e svolte dalla squadra mobile e a tratto spunto da un fatto delittuoso verificatosi lo scorso 27 maggio in via Negrelli presso un esercizio commerciale di noleggio di veicoli riconducibile all'esplosione di numerosi colpi di arma da fuoco indirizzati verso quella struttura. Già dalle primissime attività di indagine non solo erano stati rinvenuti sui luoghi dei bossoli esplosi ma erano stati rilevati anche diversi fori d'entrata di colpi di arma da fuoco sul muro, sulla porta delimitante, la zona adibita al pubblico e sulla porta del bagno e sono stati refertati al contempo due cartucce calibro 7,65. Rinvenuta sotto un'autovettura parcheggiata nelle immediate vicinanze dell'esercizio commerciale, una pistola con matricola brasa munita di colpo in canna e con annesso caricatore contenente quattro cartucce. I successivi approfondimenti eseguiti incrociando i dati cognitivi derivanti dalle escursioni testimoniali con quelli desumibili dalla disamina dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni al citato autonoleggio hanno poi permesso di ricostruire quanto sarebbe verosimilmente accaduto e quindi di ricondurre lo spunto iniziale dei fatti a una lite tra Giuseppe Micale, figlio di Rosario Micale, entrambi gestori del richiamato noleggio e un soggetto non destinatario dell'ordinanza cautelare a seguito della quale sarebbe derivato da un canto l'intervento in favore di quest'ultimo di Salvatore Musumeci a sua volta accompagnato da un gruppo di fiancheggiatori, intervento attuato mediante l'esplosione con una pistola di ripetuti colpi d'arma da fuoco indirizzati ad altezza uomo nei confronti di Giuseppe Micale e dall'altro la reazione di questi che sarebbe stata apposta in essere mediante l'impiego di un'altra pistola poi rinvenuta sui luoghi. Le indagini hanno permesso di accertare il contributo apportato da Giuseppe Balsamo che sarebbe intervenuto in appoggio a Salvatore Musumeci e che sarebbe autore a sua volta del danneggiamento di due moto in esposizione all'interno dell'attività commerciale dei Micale. Inoltre è stato rilevato come al termine dell'azione delittuosa Salvatore Musumeci si sarebbe disfatto della pistola consegnandola a sua sorella Sebastiana e alla nipote Concetta Jessica Rita Saitta per poi subito dopo allontanarsi dai luoghi a bordo di uno scooter insieme a Balsamo. I due Micale infine avrebbero cercato di occultare le due armi in loro possesso, la prima clandestina, la seconda giocattolo, sotto delle auto parcheggiate nelle adiacenze del loro esercizio commerciale.